Questo è come era Questa è come oggi Qui dice che parla di una chiesa dell'Annunciata che è questa qua Che era una chiesa collegata all'ospedale Maggiore Ovviamente di questo passaggio, questo qui era parte dell'ospedale Maggiore Uno per entrare faceva il ponte, andava e è rimasto solo questo pezzetto Vedete che l'altro l'hanno tutta tutta O è stato bombardato Non altro qui Ci sarebbe da capire perché Qui continua e invece qui Sembrerebbe andare contro la chiesa Però vabbè Questo è quanto Questa è una chiesa Questa è una chiesa Questa è un'interabile